Questo è un problema, avere una condivisione da parte di tutti i rappresentanti delle forze politiche, però un ordine del giorno già è una roba importante, soprattutto perché sta nell'unico posto dove ha senso che stia nel mille proroghe. Certo, infatti noi appunto abbiamo ringraziato la Gasparini che ce l'ha anche anticipato, tutti quelli che stanno alla camera sono bravissimi, la Gasparini sa di cosa stiamo parlando, sì lo sa ma infatti l'emendamento avevano provato a presentarlo anche nella legge di stabilità, però posso dirti, la legge di stabilità per sua natura riguarda flussi finanziari, è un paradosso, ma se tu chiedi dei soldi, noi non chiediamo dei soldi, noi chiediamo di poter essere autorizzati a fare una cosa che la legge in questo momento non permette di fare, però non è che stiamo a chiedere i soldi, perché il lavoro che abbiamo fatto sul personale, cioè sulla riduzione dei costi del personale, ci permette di avere la capienza per fare questa cosa, però è chiaro che non chiediamo soldi ma chiediamo un'autorizzazione, peraltro forse solo noi, adesso non è che conosca bene tutti gli altri, ma secondo me solo noi abbiamo fatto quel lavoro qui e abbiamo quell'incidenza di questo numero di persone. Sì, anche perché appunto parliamo della città metropolitana di Milano, adesso io abbiamo sentito un po' anche altri precari, più che altro degli enti di area vasta, per cui Imperia, poi vabbè anche Genova che invece è città metropolitana, loro sono in una situazione diversa, perché molti di loro li sta assorbendo la regione, alcuni sono in comando, però comunque... Adesso io non voglio farla presuntuosa, la città metropolitana di Milano, però oggettivamente è la realtà più grande che c'è. Ma probabilmente abbiamo anche questioni differenti, più complicate, forse anche molto particolari, ci sta. Ma poi noi, voglio dire, gli altri, ok, però noi siamo in funzioni fondamentali dell'ente, è inutile ripeterlo sempre, però noi non possiamo passare in regione, noi dobbiamo stare qui, altrimenti queste funzioni si bloccano, insomma lo sappiamo. Io poi lo dico sempre, c'è anche una questione, al netto di volervi bene, è anche utile all'ente, no? Il fatto, io lo faccio per questo motivo, non è che, non sposo una causa di principio umana, cosa che ha la sua rilevanza, ma se fosse stato questo, sei mesi fa vi avrei detto, ragazze, andate da un'altra parte, non state, esattamente come ha detto al 30% delle persone che dipendono da quest'ente, non state su funzioni fondamentali, trovate il modo di cercare un altro posto, no? Perché io penso che sia così, no? Cioè chi sta nelle istituzioni deve avere la responsabilità nei confronti delle istituzioni. No, qui si parla di personalità indispensabili per l'ente. Quindi oltre al livello umano c'è anche questa componente che è molto molto importante. Ma è le due cose. E voi ne siete consapevoli appunto. Esatto, cioè le due cose stanno insieme, no? Sì. Creiamo le condizioni perché voi andiate a fare il vostro lavoro da un'altra parte. Questa è la vera contraddizione, la particolarità. Però io sono confidente, ve l'ho già detto l'altro giorno. Beh, diciamo, questo ordine del giorno ci fa ben sperare. Ok, perfetto. Ecco, perché tra l'altro l'ordine del giorno dice che il 24 sarà in discussione la possibilità di mettere nel mille proroghe, di votare la proroga appunto dei contratti. Sì, sì. Mi avevano detto che era addirittura a gennaio il mille proroghe, mi avevano detto questa cosa. Però se l'accordo politico è questo e lo chiudono prima di Natale, la considero un impegno, no? Lo considero un impegno. Forse dopo c'è un problema tecnico perché c'era discontinuità, nel senso che non è... Questo lo vediamo, lo vediamo. No, nel senso del 24 a gennaio, per l'amor del cielo. Io non sono spaventata da 15 giorni di vacanza. Vacanza, inteso non come vacanza. No, io non sono spaventata da questo. Neanche voi, credo. Troviamo una soluzione. Una volta che abbiamo una copertura normativa, ma poi la soluzione la troviamo. L'abbiamo trovata l'anno scorso, abbiamo scritto la delibera insieme a Giagoni, che va detto che la dirigenza di quest'entra ha lavorato molto bene. Sì, assolutamente. Ok. Ha fatto questa cosa che è diventato poi una sorta di paradigma per tutti gli altri. Io di questo non so spaventare.